E' pronto e con entusiasmo a mettersi al lavoro e alla guida della Capitaneria di Porto di Salerno il nuovo comandante della Guardia Costiera, Tilio Maria D'Aconto, che ha già incontrato i rappresentanti istituzionali dal sindaco al prefetto, passando anche dalla benedizione del Vescovo Bellandi. Numerosi gli incarichi ricoperti dal Capitano di Vascello, tra i quali, da ultimo, l'incarico di comandante in seconda della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica ed ufficiale superiori addetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Pugliese d'origine, la prima impressione che il nuovo comandante ha ricevuto è proprio la somiglianza tra Salerno e la sua città d'origine, Bari. Perché in questo momento sono arrivato, mi sono insediato da meno di 24 ore. Devo dire che, peraltro, chi mi ha preceduto è stato attento a tutte le esigenze sia del mondo marittimo in generale che di tutti coloro che, insomma, a vario titolo hanno a che fare con il mare. Questo è un territorio dove, al di là della sicurezza in mare, la Capitaneria è spesso chiamata anche ad interventi che vanno a tutela dell'ambiente, penso alla costiera amalfitana, all'inquinamento del mare. È anche questa una sua priorità? Assolutamente sì, e del resto è uno dei compiti istituzionali che il Corpo ha, quello di tutela e salvaguardia dell'ecosistema marino. Quindi, inevitabilmente, al di là della sensibilità ambientale che ciascuno di noi deve avere, noi lo abbiamo ancora di più perché deriva dai nostri compiti istituzionali. Devo dire che, insomma, per chi fa il mio mestiere, comandare un porto che ha questa dinamicità e questo traffico, sia commerciale insensurato, sia passeggeri che merci, non può che soddisfarmi. Poi, per quelle che possono essere le criticità alle cose, siamo qui per cercare di risolverle.